Esiste una terra dove coraggio e rispetto vengono prima di tutto. Possono mandare in frantume il nostro renno. Dove la tradizione si scontra con il presente. Non annienteranno mai la nostra cultura. Ancora un errore. Dove la legge... E sei fuori. ...convive con il crimine. Se il tuo spirito è dannato... ...e il tuo sguardo è volto a oriente... Uomini ribelli. Made in Asia. Venerdì alle 21. Su cielo. Grazie a tutti.